Ho trovato un'imbarcazione nemica! Aereo nemico, contatto visivo! Ho individuato un soldato nemico con anticarro appena avviò a sud di te! Abbiamo appena conquistato l'obiettivo bravo! Controllo dell'obiettivo alfa verso! Imbarcazione nemica localizzata! Attenzione! Il tivo alfa è stato neutralizzato! Vedo un velivolo nemico, a nord della tua posizione! Ho individuato un aereo nemico! L'obiettivo eco è stato perso! Attenzione! L'obiettivo alfa è in mano nostra! Ho localizzato un elicottero nemico! C'è il reso! Milicottero nemico! Un'arrivia... Lo Elise... Come ricordo? È un legno Tree! Perciò è stato perso. Soltato nemico con anticarro al sud rispetto a te. Velibola è localizzato.